PsyMap è la piattaforma gratuita ideata dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia per aiutare le persone a trovare un professionista psicologo su Milano e su tutto il territorio regionale. Spesso chi vive un disagio psicologico può provare sentimenti di vergogna e confusione che ostacolano la ricerca di una soluzione. Definire in modo chiaro il problema risulta difficile, così come trovare il professionista più capace di rispondere alle proprie esigenze. Nel sito psymap.it troverai esclusivamente psicologi e psicoterapeuti iscritti all'Ordine degli Psicologi. PsyMap può aiutarti a trovare il professionista psicologo più adatto alle tue esigenze in modo sicuro, gratuito e discreto nel settore pubblico e in quello privato. Su www.psymap.it non hai bisogno di registrarti e puoi contare su un'interfaccia facile da usare che ti aiuta passo dopo passo nella tua ricerca. Nel menu per chi stai cercando aiuto indica la persona che ha bisogno di supporto. All'interno del menu problematica seleziona la difficoltà per la quale stai cercando un sostegno. Inserisci un indirizzo di partenza per definire un'area geografica entro la quale cercare il professionista o il centro. PsyMap ti fornisce una lista di nominativi di professionisti e i loro contatti in funzione dell'indirizzo da te indicato nella mappa. Se ti interessano maggiori informazioni sul professionista o il centro, clicca su vai alla scheda. Oltre ai dati di contatto, troverai note aggiuntive sulla formazione e sull'esperienza degli psicologi elencati. Contatta il professionista o il centro scrivendo un messaggio nell'apposito spazio oppure utilizzando le informazioni di contatto presenti nella sua scheda personale. Per l'ordine degli psicologi della Lombardia, SyMap rappresenta un aiuto concreto per avvicinare le persone alla psicologia e ai suoi professionisti in modo sicuro e discreto. Buona navigazione